Sono di origine trentina, però lo struder lo faccio trentino. Adesso impastiamo 300 g di farina, un pizzico di sale, metto un uovo, due cucchiai di olio, un cucchiaio di aceto di mele, metto un po' alla volta un po' di acqua tiepida fino che diventi un impasto morbido. Impastiamo a mano un attimo e dopo lo mettiamo a riposare intanto che prepariamo la frutta e ingredienti. Se è pronta la lasciamo riposare nella carta stagnola fino a che prepariamo il ripieno. Adesso sbuccio le mele. E le metto con tutti gli ingredienti, con l'uvetta, con i pinoli. Le quattro mele che adesso taglio con la mandolina. Ecco, queste sono quattro mele, adesso mettiamo l'uvetta tutto insieme. L'uvetta a bagno con un po' di rum, appena appena. Grattugio un po' di limone. La parte gialla. che hai di zucchero. Adesso un po' di cannella. Adesso stendiamo l'impasto con un po' di... metto un po' di farina sotto. Metto un po' di farina sotto. insieme al po' di farina sotto. Per mezzo. Metto un po' di farina sotto. Metto un po' di farina sotto. Per mezzo. centimetro la sfoglia. L'ampennelliamo con un po' di burro. Mettiamo un cucchiaio di marmellata. Mettiamo il ripieno, lo distribuiamo dappertutto un po'. Adesso impennelliamo un po' con il buro. L'ampennelliamo la carta forno con un po' di burro. Adesso lo spenello con un po' di burro. Metto in forno per 180 gradi per mezz'ora, 30 minuti. Metto un po' di zucchero sopra e anche un po' di amaretti, i brigiolati. Grazie. 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 Grazie.